Cari quaddisti, Tony Souza-Boscia, Franco Fratton, KTM XC, dopo praticamente un turno e mezzo di prove a Castellarano. Il pilota, che è un ondo ufficiale francese, non riesce a trovarsi solo in mezzo per la posizione troppo alta del manubrio, la dimensione troppo grossa delle leve, e il suo più grosso problema è quello, c'è una posizione di guida, dall'esterno il comportamento del forcellone posteriore non è adatto al pilota, questo senz'altro, e Franco sta cercando di ottimizzare le reazioni delle moto alle esigenze di Tony. Hi Tony, how are you? Come stai? Ti piace Castellarano? Castellarano, il circuito. Grandissimo, ricordiamo che una delle virtù fondamentali di Tony è anche un motivo molto importante, per cui sia pilota ufficiale Honda, è la sua grande sensibilità di pilota e le sue capacità di collaudatore. Chiediamo adesso a Franco, che parla il francese come l'italiano, quale siano state le impressioni di Tony, perché noi purtroppo sono completamente sfuggite. Grande Franco, cosa ha detto il pilota quando è sceso? No, adesso aveva un problema di un po' di rattare del motore, come se mancasse un po' di benzina o qualche problema così, di quel genere lì, dice che è un pochettino troppo duro, un pochettino troppo frenato in espensione di dietro, non segue bene, allora io ho fatto due regolazioni, però non si lamentano insieme più. Ma Tony non si lamenta mai, Franco, lo conosci bene. No, lo so, però il suo problema grosso in questo momento è più la posizione di guida e tutto quello che concerne il manubrio, ecco, non è tanto le sospensioni o il tipo di moto che è, perché poi le sospensioni... È l'adattamento alla moto. È adattarsi alla moto che senz'altro è diversa da quella che guida normalmente, comunque insomma, pian pianino ci arriva adesso. È un grande campione, si farà, Franco. Sì, ma poi si adatta tutto, Tony. Franco, ricordiamo che il KTM è l'unico quad con il piantone scomponibile, cioè con la parte superiore del piantone, dove ci sono gli agganci per i bulloni degli antivibranti, che può staccarsi dal piantone stesso e quindi prima di sabato sarà possibile accorciare il piantone di qualche centimetro per adattarlo alle esigenze di Tony. Sì, beh, senz'altro per sabato gli abbasseremo di un paio di centimetri, che è quello che gli serve. Poi il resto sono soltanto cambiare le manopole, il diametro un po' più piccolo, ammorbidire l'acceleratore, diciamo dettagli, poi è evidente che non sta guidando la sua moto, per cui non può essere... Ed è anche il secondo turno che fa, Franco, comunque. Sì, beh, insomma, ha fatto 10-12 giri, per cui, ma io non ho nessun problema. Poi, alla fine della tira, è anche qua per divertirsi, eh. Che è sempre importante. Non è che è qui per far chissà che cosa, per cui va bene così. Franco, ti ringraziamo tantissimo, a dopo. Ok.